Siamo a pochi minuti da un concerto storico, le dichiarazioni più belle saranno quelle del dopo perché saremo carichi di emozioni e di meraviglia, credo che questa giornata rimarrà per sempre nella storia della musica non solo di Napoli ma nemmeno solo dell'Italia perché andiamo in mondo visione, quindi questa è la potenza di Pino, la potenza della musica napoletana, la capacità di questa città di mettere insieme come nessun'altra artisti così straordinari. San Paolo è stato e sarà storicamente un luogo dove oltre al calcio e allo sport si fa musica, è lo stadio del popolo, Pino è il cuore, il corpo e l'anima di Napoli, quindi dove si poteva fare questo evento che entra nella storia se non nello stadio San Paolo, lo stadio della nostra città.